Come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia abbiamo inviato una missiva al Presidente della Regione, all'Assessore alla Sanità, a tutti i sindaci e a tutti i prefetti, perché noi Vigili del Fuoco chiediamo aiuto proprio a loro, perché vogliamo che arrivino questi benedetti DB, queste benedette mascherine. Ricordiamo che nel territorio nazionale due colleghi già hanno perso la vita con il coronavirus, altri 18 sono in terapia intensiva, 80 sono in quarantena e ancora il coronavirus non è stato sdebellato. I Vigili del Fuoco non sono immuni, perciò vogliamo essere messi in condizione di operare in sicurezza, perché anche noi abbiamo delle famiglie e noi stiamo in contatto con la popolazione perché siamo la colonna portante della protezione civile. Vogliamo risposte esaustive perché siamo pronti alla protesta, non possiamo accettare che i dispositivi di protezione individuale arrivino ad aprile e maggio, significa esporci ancora di più. Le tutele non le prendiamo, tutte le precauzioni le adottiamo, ripeto, ma non siamo immuni, vogliamo sicurezza. Presidente, ci rispondi.